Flavio Armanini, oggi a Saronno, marcia l'orgoglio bianco celeste. Cosa farete? Primariamente, oltre che una marcia dell'orgoglio bianco celeste, noi la consideriamo la festa dei vent'anni del nostro gruppo, che è il Fronte Ribelle. Il Fronte Ribelle è nato nel 1993 e proprio il 5 settembre oggi festeggiamo degnamente questo anniversario. Per farciò, sfileremo in corteo, da qua al piazzale dello stadio fino ad arrivare in Piazza Libertà, per poi proseguire con una super festa al locale Mister Charlie in Piazza dei Gasperi. L'FVC Saronno non c'è più da qualche anno, ma il Fronte continua a tenere alti la passione ai colori bianco celeste a Saronno? Assolutamente sì, perché come dico sempre, il Fronte primariamente è un gruppo di amici, solo secondariamente un gruppo che segue il Saronno. Quindi l'amicizia e la passione restano sempre vive, nonostante questo sia il quarto campionato in cui non abbiamo una squadra ufficiale da seguire.